Viola Sella che come dicevamo prima è lì per il terzo posto al termine della terza rotazione diciamo così quindi ha un bel peso concludere con il nastro Sì Sì Che grinta a Viola Sella Non era per niente scontato rimanere tranquille e lucide nell'ultima rotazione Quando ti stai giocando il podio dei campionati assoluti Vedremo chiaramente poi come andrà a finire Ma sicuramente il suo l'ha fatto e l'ha fatto molto bene Bravissima Viola Un'esecuzione direi impeccabile Parlavamo proprio appunto prima degli aspetti emotivi Viola è stata bravissima a portare a termine questa esecuzione Nonostante appunto la responsabilità dell'ultimo attrezzo